La conquista dell'America I primi 20-25 anni di dominio spagnolo in America furono abbastanza deludenti. In 25 anni gli spagnoli riuscirono a occupare le grandi antille, Cuba e Haiti, e furono invece respinti dalle piccole antille dove la popolazione locale utilizzava frecce avvelinate. Dopodiché si diressero verso il continente, soprattutto nell'area centroamericana. Un esploratore balboa attraversò l'ismo di Panama e poteva osservare per primo il Pacifico. Si trattava di territori abbastanza poveri, ancora fermi a livello tribale e privi di strutture statuali. Le cose cambiarono quando nel 1519 Hernández Cortés partì da Cuba e sbarcò a Veracruz, nella costa messicana dei Caraibi, con un reparto di soldati, una spedizione non del tutto legale, anche dal punto di vista spagnolo. Cortés, nel giro di due anni, riuscì, dopo aver superato una serie di avversità, a conquistare l'impero degli Astechi. La rapida conquista, intervallata anche da scontri fra gli stessi spagnoli, fu provocata da una serie di circostanze favorevoli per i conquistatori. Innanzitutto la superiorità tecnologica. Da un lato le armi da fuoco, ma anche la stessa presenza di armi da taglio, spade, lance o delle corazze. Gli Astechi ignoravano la tecnologia della fusione e utilizzavano ancora armi di pietra. Poi il possesso dei cavalli, ignoti dal tutto alle popolazioni americane. E infine la fortuna che accompagnò gli spagnoli, in cui giunsero in un momento in cui il calendario religioso Asteco era particolarmente incline a prevedere degli eventi negativi. Altri elementi favorevoli per gli spagnoli furono un'epidemia di vaiolo, che si stessi portarono, malattia verso la quale le popolazioni americane non erano immunizzate, e infine il fatto che il dominio Asteco fosse estremamente odioso per molte popolazioni centroamericane e messicane, e le quali appunto videro negli spagnoli degli alleati. Tutti questi motivi permisero a Cortes, il quale si dimostrò un buon comandante militare, anche spietato possiamo dire, ma anche un eccellente politico, di conquistare tutta l'area centroamericana, di distruggere Tenochtitlano e abbattere l'impero degli Astechi. Poco dopo, negli anni successivi, i suoi lugotenenti estesero il dominio anche alla città-stato dei Maya. Monteio e Alvaro conquistarono l'area appunto dello Yucatán e del Guatemala. Nei decenni successivi, tra 1531 e 1536, due conquistadores, questo fu il nome preso dai comandanti militari spagnoli, Pizarro e Almagro, si direvessero verso Sud America. Via Mare giunsero in Peru e riuscirono, con qualche difficoltà maggiore rispetto a quelle incontrate da Cortes, a conquistare l'impero peruviano degli Incas. I motivi, anche in questo caso, furono la superiorità tecnologica, ma anche il fatto che l'impero era appena uscito da una dura guerra civile tra due pretendenti al trono, Atahualpa e Huascar. Il vincitore Atahualpa non seppe capire il pericolo rappresentato dagli spagnoli e fu catturato mentre appunto, tutto sommato, indagava con il suo esercito la presenza di questi sconosciuti. Catturato l'imperatore, quasi una divinità, lo shock per gli Incas fu eccessivo. L'eccessiva centralizzazione dell'impero fece sì che sul momento si verificasse un crollo totale delle strutture statuali degli Incas. Però il dominio degli Incas non era così odioso come quello degli Astechi e pertanto, dopo l'arrivo degli Spagnoli, i peruviani riuscirono a realizzare una sorta di resistenza creando una nuova dinastia che guidò la lotta contro gli Spagnoli i quali, peraltro, anche in questo caso, cominciarono a combattersi fra di loro. Questo impero ombra degli Incas continuò a resistere per parecchi secoli. L'ultimo imperatore, Manco Capac, fu catturato e decapitato nel 1780 quindi oltre due secoli e mezzo dopo la conquista. Impostisi con grande facilità, tutto sommato, gli Spagnoli, appunto, cominciarono a lottare fra di loro e la monarchia spagnola dell'altra parte dell'oceano cominciò seriamente a temere che questi conquistadores volessero crearsi dei domini personali delle sorte di stati indipendenti dalla madrepatria spagnola e così, un passo dopo l'altro, cominciarono a costituire un'amministrazione molto centralizzata. In Spagna fu creata una sorta di ministero, chiamato il Consiglio delle Indie il quale a distanza governava i territori d'oltreoceano. In America, invece, gli Spagnoli crearono due aree, due circoscrizioni il vicereame della Nuova Spagna in Messico, Centro America, nelle Antille e nel Venezuela attuale e il vicereame del Peru lungo le Ande, dalla Colombia attuale all'Equador, il Peru, la Bolivia, il Cile e anche alcune parti dell'attuale Argentina e Paraguay. Questi due grandi vicereami, soggetti a due funzionali vicere, erano poi frammentati in una serie di governatorati che in parte corrispondono agli attuali stati dell'America Spagnola. Anche la gestione economica fu curata in modo particolare, fu creata anche in questo caso una struttura centralizzata, la Casa de Contratation, collocata a Siviglia, che era il porto di arrivo dei convogli di galeoni da e per l'America e questa appunto, questa amministrazione aveva il compito di controllare tutto ciò che partiva, che tornava dall'America. In ogni caso fu imposto il principio in base al quale le colonie potevano commerciare solamente con la Spagna. Erano vietati gli acquisti diretti da altri paesi europei e anche le vendite. Le navi che partivano dall'America Spagnola potevano dirigersi solo verso i porti della madrepatria. Infanto l'idea era che economicamente questi territori avevano l'unico scopo di arricchire la Spagna. Per quanto riguarda la gestione delle terre, gli spagnoli che erano andati a conquistare questi territori ottennero, in gran parte si presero, degli enormi affettamenti, non proprio in proprietà, ma in concessione potremmo dire, le encomiendas, che poi furono ribattezzate ripartimentos. Ogni spagnolo titolare di un encomiendas aveva il compito anche di controllare e di fatto aveva il potere di sfruttare economicamente anche tutti gli abitanti che vivevano nel suo territorio. Una sorta di feudalesimo modernizzato. Anche in questo caso la giustificazione fu di tipo religioso. L'encomiendas doveva curare la conversione al cristianesimo degli abitanti soggetti al suo controllo. Di fatto è emerso un sistema caratterizzato da enormi latifondi che appunto influenzarono e caratterizzarono profondamente Sud America fino a tutto sommato ai nostri giorni. La popolazione americana presente al momento dell'invasione, della conquista spagnola, conobbe un crollo demografico spaventoso, al punto tale che si parla di un genocidio americano. Genocidio, quindi uccisione di una stirpe di un intero popolo. Cosa provocò questa morte di massa? Beh, innanzitutto molti abitanti morirono durante la guerra. Altri morirono per lo sfruttamento selvaggio avvenuto dentro alle miniere e nelle piantagioni. Ma la maggior parte in realtà morì per le malattie europee. Le popolazioni residenti in America non erano immunizzate alle malattie europee. E pertanto malattie come il morbillo risultavano letali per i nativi americani. Infine ci fu un crollo verticale della natalità dovuto al trauma subito da questa rapidissima conquista e dalla distruzione delle strutture statali, ma anche delle usanze, tradizioni, religioni e locali. Quante persone sono morte? Beh, in realtà non si può dire con certezza, ma alcuni studiosi hanno ipotizzato innanzitutto gli abitanti presenti e poi hanno stimato il crollo della popolazione. Secondo alcune stime che sono molto variabili, secondo lo storico Dobbins erano complessivamente 78 milioni di persone in America, secondo lo storico di Rosenblatt erano 13 milioni e mezzo. Questo nel 1492. Circa un secolo e mezzo dopo, un po' di più, lo storico Nadir stima in 3 milioni e mezzo il totale della popolazione. In entrambi i casi il crollo risulta verticale. In ogni caso, la popolazione americana, i nativi americani, furono completamente asserviti. In questa raffigurazione abbiamo la miniera di Potosi, una miniera d'argento collocata all'interno di una montagna da cui si entrava da una quota piuttosto elevata. Qua si può vedere appunto le condizioni bestiali dei minatori, ovvero dei nativi americani asserviti.